Siamo riusciti a fare anche questa volta un concerto straordinario per voi e per noi Giam Serenzi a Sassuolo Gio Moruso al piano E Nesco Vitolo La mia Elisabetta Serio al piano forte Giulio D'Ebiscopo Toni Esposito Rino Zulzo E Eugenio Pennato La nuova compagnia di canto popolare Enzo Gragneriello Teresa Messio Iosanna Iosanna Genni Sorrenti Raissa Novegregia Clementino Iosanna Iosanna Antonio Norato Toni Cervola Agostino Martino Rosario Germano Nello Daniele Grazie 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 per averci dato la possibilità Grazie Iosanna Basti vibrante o Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.